Credo per poter comprendere e cerco di comprendere per credere, dice Agostino. Tra fede e ragione per lui c'è un rapporto di collaborazione e di circolarità. In che senso? Ecco, questa è la domanda che per me è più determinante dal punto di vista non solo ermeneutico, ma anche teoretico. Io ricordo di aver dedicato la bellezza di dieci anni alla traduzione al convento della metafisica di Aristotele e che molti hanno creduto che io fossi un amante di Aristotele, un aristotelico, ed è falsissimo. Io sono sempre stato platonico e ho cominciato da Aristotele proprio per arrivare a Platone e appunto agostiniano. E quindi, ma proprio per questa soluzione, ecco la soluzione che propone Agostino e che secondo me è un paradigma irreversibile nella storia dell'Occidente. La famosa formula con cui lo dice, credo ut intelligam, intelligo ut credam, e cioè io credo ma per poter capire con la ragione ciò che credo e viceversa cerco di capire con la ragione per arrivare con la fede alla pienezza della comprensione dell'oggetto della mia fede. E quindi, diciamo così, ecco ha individuato quello che io chiamerei un circolo ermeneutico stupendo. E cioè la ragione umana non funziona senza una fede e la fede a sua volta, se fede umana, l'uomo, ecco, deve avere un supporto razionale, deve avere una convivenza costruttiva, dinamica, finché vuole, ma costruttiva. Allora, fede e ragione nel loro intrecciarsi relazionale, dinamico, sintetico e costruttivo, ecco questa è la sua grande scoperta e credo non sia superabile oggettivamente. Questa è la mia convinzione, naturalmente teoretica, oltre che la verità ermeneutica che è questa della posizione di Agostino. Faccio un esempio, quando esco e chiedo ad uno, mi dica per andare nella tua piazza che strada devo fare, quando mi dà una risposta, io non sottopongo questa risposta a una verifica puramente razionale, razionale, e vado dove mi ha detto, e per quale motivo? E perché ci credo, fede, ma procediamo. E domando, quando sei nato? Mi date una risposta? E già, e qual è la prova incontrovertibile? E no, è il documento, ma il documento si basa sulla fiducia di quelle che hanno dichiarato quello. Ma potrei moltiplicare gli esempi? Allora direi, ma potrei essere più avanzato, e cioè dire questo, e ho letto nel grande Kuhn, nel suo libro fondamentale sulle riuscite scientifiche, una delle pagine più belle che abbia letto su questo argomento. Kuhn non è un credente, ma proprio per questo dà una risposta molto pertinente. La scienza procede per cambiamenti di paradigmi. Uno si sottopisce all'altro. La dinamica dell'evoluzione scientifica è una dinamica, diciamo, di sostituzioni paradigmatiche, lotta fra paradigmi. E come mai lo scienziato, da un paradigma, passa a un altro paradigma, che di solito è in toto opposto al precedente? La risposta che Kuhn dà è strabiliante. Predomina la fede. Fede in che cosa? Che con quel nuovo paradigma io risolverò molti dei problemi che col vecchio paradigma io non ho risolto. E non solo aggiunge a questa dicitura, diciamo, col termine di fede, quest'altra. È una forma di conversione. Allora, ecco qui il punto. La risposta che io darei è questa. Quelli che negano la rivelevanza e la portata della fede si pongono su una posizione, per così dire, prevenuta a priori, che cancella tutto ciò che a loro da noia. E invece se diventassero più aperti alla verità, alla struttura della verità, della realtà è questa. Si accorgerivano che addirittura nella vita dell'uomo prevale la dimensione della fede. E allora è qui il punto che Agostino potrebbe avere in mano. E tu credi a molti, a moltissime cose. E perché non credi a quel tale che è venuto e ha detto di essere figlio di Dio e che ti ha fornito prove con risurrezioni, eccetera, eccetera, con miracoli straordinari? Questa è la sua posizione, che secondo me è una posizione veramente dirompente. Fede quindi come coinvolgimento globale delle capacità dell'uomo che non sono irrazionali o antirrazionali, ma potremmo anche dire talvolta pararazionali o metarazionali, ma di complemento e non di toglimento.